Inclusione e solidarietà sociale, queste le parole chiave che animano la convention organizzata da poste italiane presso la splendida cornice del parlamentino CNEL, alla presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei centri antiviolenza. Focus dunque sull'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, la parola alla responsabile di RSI, responsabilità sociale d'impresa, il dottor Massimiliano Monnanni. All'interno della nostra politica di sostenibilità e in riferimento anche agli adempimenti che noi svolgiamo con il bilancio integrato di gruppo abbiamo dato priorità sulla base di una serie di valutazioni come responsabilità sociale d'impresa a questa iniziativa, che è un'iniziativa che avviamo in via sperimentale ma che si propone di diventare strutturale nel tempo. Agiamo insieme alle principali organizzazioni che si occupano concretamente di aiutare le donne che subiscono violenza offrendo per percorsi di accoglienza e supporto per il bilancio di competenze per un percorso di reinserimento. Parliamo in questa prima sperimentazione di un percorso che noi abbiamo definito con le organizzazioni che coinvolgeremo per 20 donne e questo ovviamente è un obiettivo che ci auspichiamo di raggiungere in tempi rapidi e che poi fornirà degli spunti utili per poter elaborare un piano strutturale che terrà conto appunto anche della sperimentazione che stiamo avviando insieme al Telefono Rosa e alla Rete Dire. L'azienda è da sempre impegnata su questo tema, lo fa con una serie di attività ricorrenti. A dicembre dell'anno scorso abbiamo adottato peraltro una politica sui diritti umani che contiene al suo interno anche tutti i principi e le forme di tutela previste dalla normativa rispetto al tema della violenza di genere. Quindi l'azienda sta avviando all'interno di questa politica un'attività di formazione capillare che coinvolgerà tutti i dipendenti all'interno di questa politica più ampia dei diritti umani che comprende poi declina varie forme tra cui ogni forma di discriminazione contro le donne, il tema della prevenzione della violenza di genere e ovviamente anche altre forme di discriminazione che possono riguardare le persone con disabilità, le persone anziane e altre forme ancora. A dare un prezioso contributo alla tematica trattata, la sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Pugliesi. Purtroppo molte donne restano in trappola nella violenza domestica e non hanno la forza di denunciare proprio perché manca quella fondamentale autonomia lavorativa e abitativa su cui possano contare per liberarsi dalla violenza che le opprime. Per questo iniziative come quella che si è svolta oggi al CLEN per presentare i risultati di poste italiane che insieme ai centri violenza aiuta le donne che stanno uscendo da percorsi davvero complicati ad entrare in un percorso formativo e lavorativo stabile. Abbiamo bisogno, per dirla come diceva Valeria Sollesin, di mettere tutte le donne al lavoro per renderle davvero libere.